Servizio sanitario nelle zone interne, quelle dove la posizione geografica e la mancanza di rapide vie di comunicazione rischia di penalizzare gli abitanti del luogo. Garantire assistenza continua anche in quei territori è un diritto che le popolazioni hanno, un'esigenza accresciuta dalla presenza di un numero sempre più elevato di persone anziane, che decidono di rimanere in quei posti ai quali in alcuni casi sono legati sul piano affettivo. La notizia riguarda il comune di Sestino, il quale potrà contare su un servizio di emergenza garantito dall'elisoccorso per 24 ore al giorno. Questo è stato possibile grazie alle verifiche fatte per accertare che il campo sportivo avesse i requisiti necessari per consentire al Pegaso di atterrare e decollare, anche nelle ore notturne. Sestino è il comune della provincia di Arezzo più distante dal capoluogo e da Firenze, in un'area geografica che lo fa essere più facilmente raggiungibile da altre province. La possibilità di avere a disposizione questo servizio viene incontro a un'esigenza reale. Commenti favorevoli a questo riguardo sono stati espressi in ambito regionale. Si segnala quello del consigliere Vincenzo Ceccarelli, quale afferma che in questo modo sarà possibile offrire a questo angolo della Toscana una soluzione sempre più efficace per le emergenze mediche.